Fino al 3 aprile saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade che riguarderanno il percorso del Giro di Sicilia 2022 a Caltanizzetta. I lavori saranno effettuati durante la fascia oraria che va dalle 7 del mattino alle 17 del pomeriggio e riguarderanno il rifacimento del manuto stradale. Dei lati del tratto dello svincolo della strada statale 640 fino via Salvatore Averna Saranno poi interessati dai lavori il viadotto via Aldo Pinelli, incrocio via Pinelli, via Piersanti-Mattarella fino alla rotatoria Bloi, via Vassallo, via Napoleone-Colaianni e ancora via Verna, incrocio via Vassallo e via Chiarendà fino al via Le Regina Margherita. Interventi preparatori per la competizione ciclistica della seconda tappa, ovvero la Palma di Montechiaro-Caltanissetta prevista per il 13 aprile prossimo, durante la quale saranno attraversate Mazzarino, Barrafranca ed Enna. Una tappa impegnativa per i ciclisti, caratterizzata dal continuo saliscendi dell'entroterra con gli ultimi tre chilometri molto difficili, dice l'assessore allo sport Fabio Caracausi per noi è stata un'occasione per intervenire sul percorso e per preparare il tutto in vista di una manifestazione sportiva di questa importanza di cui potrà godere la città. Doveroso ringraziare da parte dell'amministrazione comunale il genio civile nella persona dell'ingegnere Luigi Di Natali, che ha collaborato in modo fattivo e sinergico con il mio assessorato allo sport e con il nostro ufficio tecnico per la fase preparatoria e progettuale. È stato così possibile ed in tempi rapidi intervenire su quello che sarà il percorso di gara.